L'esposto presentato da due cittadini, Maria Grazia Bonfante e Ferruccio Rizzi, al Ministero della Transizione Ecologica e alla Prefettura di Cremona, con la richiesta di intervento sulla questione delle pessime condizioni ambientali del territorio e del continuo sforamento dei parametri delle polveri sottili, ha sortito un primo effetto. Il Mita ha risposto dichiarando che la documentazione presentata sarà affidata a Dispra, chiamata a valutare se vi siano gli estremi per un danno o una minaccia di danno ambientale. I cittadini svolgono un ruolo determinante, possono e devono assolutamente incalzare le amministrazioni. Il Ministero ci ha risposto e affida ad Dispra gli approfondimenti per la valutazione del danno ambientale. Teniamo conto che il Ministero, nell'esposto, viene indicato anche il territorio della provincia di Cremona, dove abbiamo chiaramente l'agricoltura e gli allevamenti intensivi. Quindi partiamo già da una situazione di criticità morfologica. La richiesta di intervento al Ministero e anche alla Prefettura di Cremona per chiedere un'ordinanza urgente in attuazione dei principi di precauzione e sviluppo sostenibile è stata accompagnata da un preciso richiamo al Sindaco di Cremona, città già indicata dalla Corte di Giustizia Europea come la più inquinata d'Europa e la prima per morti premature legate alle polveri sottili. Non si può continuare con le scelte politiche ormai ultradecennali che tra l'altro bipartisan vengono appoggiate, quali ad esempio quelle del polo logistico. C'è in corso la variante generale del PGT, assolutamente è evitabilissimo il polo logistico. Quindi la Fondo Politico è proprio per ricordare, no al polo logistico e la moratoria agli impianti, no all'inceneritore di Cremona perché ancora nel primo mandato del Sindaco di Cremona era assolutamente da spegnere. Non è un problema di tecnologia, questo è un problema di scelta politica. Inoltre il Comune di Cremona e le istituzioni devono assolutamente, per salvaguardare la salute dei cittadini, compiere un passo in avanti di controllo sulle aziende.